ciao a tutti i farmer spero tutto bene ebbene sì come letto nel titolo ieri c'erano 150 persone proprio qualabrina a piantare 250 alberi qua abbiamo anche amici che passano a salutarci e ci fanno le fusa è partito tutto da un un anno e mezzo fa come sai labrina è stata acquistata grazie all'intervento in prima linea di ivan ivan che è il seo di flowy e che ha messo la firma per garantire appunto l'acquisto il prestito per comprare labrina e labrina nell'ultimo anno e mezzo è cambiata veramente un sacco e è uno step fondamentale di tutta la nostra azienda agricola perché il terreno a orticole più grande che abbiamo dove la maggior parte della produzione si concentra ogni anno con flowy stiamo facendo step diversi due anni fa quindi un anno e mezzo fa abbiamo preso il labrina l'anno scorso sono arrivate le api quest'anno volevamo coinvolgere però tutto il team di flowy che conta quasi 150 dipendenti sono cresciuti tantissimo negli ultimi anni quindi che cosa abbiamo pensato di chiamarli tutti qui a raccolta per andare a creare insieme tutte le siepi della brina naturalmente i lavori alla brina sono partiti giorni prima abbiamo preparato bene tutto sono arrivate le balline di fieno è arrivato il letame da mauro sono arrivate le piante che hai già visto negli scorsi video e si è concentrato tutto in un sabato mattina in pochissime ore infatti che cosa abbiamo fatto mamma mia ma tu sei coccolone fuori fuori coccolona vabbè un sacco vabbè intanto quasi ci si massaggia quindi è arrivato tutto il team di flowy e devo dirvi fa un po impressione vedere così tante persone proprio qua a labrina avevamo predisposto bene tutto le pale le cariole le piante il letame era tutto tutto pronto andava solo messa a mano vi abbiamo voluto qua tutti per andare a fare un altro step interessante che è quello di andare a mettere le siepi che oggi pianteremo ci vuole due due parole allora poi mette ci racconterà perché le siepi no perché nell'immaginario collettivo le siepi a che servono non danno frutto e mette ci racconterà invece la strategicità del guardare alla biodiversità abbiamo scelto con con elena e tutto il leadership team questo luogo un po per quello che ha detto mette che si ricollega alle nostre radici ma in realtà è molto collegato alla purpose di flowy a perché noi ci alziamo ogni mattina smadonniamo fatichiamo piangiamo soffriamo perché le cose non vanno avanti vanno avanti ma non come vorremmo voi sono sono difficili abbiamo tante cose una messa insieme all'altra ma perché abbiamo un fermo credo che persone migliori creano un mondo migliore dopo un inizio dove ho raccontato con ivan un po la storia il percorso che abbiamo fatto siamo partiti abbiamo diviso le persone in tre mega gruppi da 40 persone ogni gruppo era suddiviso poi in varie squadre operative da circa cinque persone a mini gruppo e avevano a disposizione ognuno una pianta due pale e una carriola con l'innaffiatoio l'obiettivo era molto semplice fare una bella buca mettere la pianta con cime sopra acqua subito alle piante perché le temperature sono veramente altissime sparate la terra abbastanza buona questa vorrei farvi vedere si scava proprio veramente veramente bene ora andiamo a fare una buca non troppo profonda perché questo perché altrimenti andiamo a creare un marciume al colletto della pianta il colletto questo vuol dire che non dobbiamo mai andare lo faccio vedere meglio a superare questo livello anche qua c'è della segatura apposta per limitare l'evaporazione è tutto studiato bene quindi andremo a fare una buca abbastanza profonda ma non troppo una volta fatta andiamo a togliere il nostro vaso basta dargli un colpo e scende lui da solo andiamo a mettere la nostra pianta in questo caso va abbassata ancora un po' perché vedete il livello è alto andiamo a chiuderla dopo ci sono le carriole andiamo a prendere l'etame che è già maturo non puzza perché ormai è terra se lo hanno usate io vi invito a farlo non puzza sa di sottobosco tanto che stanno crescendo i funghi se vedete ne andiamo a mettere un pochino in parte dopo le andiamo innaffiare una volta fatto questo l'azione è fatta i ragazzi stanno andando alla grande hanno già messo le loro 30 piante hanno fatto la buca ha messo la pianta poi hanno coperto messo l'etame ora stanno stanno annaffiando è venuto veramente un bel lavoro fa molta impressione che abbiamo fatto tutta questa azione proprio per spiegare la siccità i cambiamenti climatici e siamo passati da una settimana all'altra avere temperature molto basse abbiamo toccato anche i 6 7 gradi la sera a temperature veramente molto più alte il clima che stiamo avendo è un clima primavera inoltrata quindi per capirci un inizio maggio tocchiamo il pomeriggio temperature di 30 31 gradi a volte e la sera la temperatura media che si verifica sono i 13 14 gradi veramente temperature sparate e ci stanno chiedendo un pochino più azione quindi tutto questo ci fa capire come è stato importante affiancare al andare a installare tutte le sepi anche una parte più culturale di coscienza dove sono andato a parlare con varie persone a toccare i vari argomenti in live gli interventi te li lascio qua in descrizione link in descrizione andando a parlare con vari amici proprio di vari temi che toccano il clima grazie Una volta trapiantate tutte le piante siamo andati giustamente e meritatamente a mangiare Trattoria locale è stato bello passare anche un momento conviviale con tutte le persone Il pomeriggio oltre alle live poi abbiamo fatto varie attività, vari giochi insieme Perché una buona attività lo stare insieme non può passare solo dal lavoro Ma anche dal condividere momenti gogliardici e di sfida insieme E quindi ci siamo trasferiti al podere dove sono state avviate tutte queste attività con premiazione finale La giornata si è conclusa verso le 5 e mezza 6 Quando sono andato a riverificare da solo che tutti i terreni fossero a posto Tutti fossero chiusi, gli asini, le pecore fossero a posto E il sentimento più grande che avevo in cuore era la soddisfazione di aver fatto una grossa impresa insieme Continuo a insistere su questo punto Mi fanno paura i cambiamenti climatici, tutto quello che sta succedendo se mi percepisco da solo Se mi percepisco in solitudine Nella maniera invece in cui mi trovo circondato di persone che insieme mi danno una mano Che insieme lavorano con me Allora tutto diventa possibile Anzi non mi fa paura più nulla Questo è il messaggio che deve passare e è anche uno degli slogan delle direttive che Flowey segue Ogni singola goccia è importantissima se messa in unione a altre gocce Questa è la cosa principale per cui voglio continuare a lavorare nella gestione dei terreni Qua ci sono un sacco ora di progetti ancora che sono inespressi e dovremo fare insieme Non vedo l'ora di riuscire anche a aprire il Labrina proprio nell'ospedale Tutti stiamo già pensando addirittura di tenere anche una parte di mercato qua Nella parte diciamo più estiva Quindi fare proprio il mercato visitabile, toccabile Perché Labrina vuole diventare questo Un vero e proprio laboratorio all'area aperta Dove uno può venire, esplorare, toccare, comprare ortaggi e mangiarli anche Farmer, che dire, io sono veramente contentissimo C'è un gatto che non c'è un nome però è iper affettuoso oggi Quindi non mi sento solo Ci vediamo nel prossimo video perché la storia della Brina, del Podere e della Stato Brado Farmer Non finisce qua ma incomincia proprio qua Ciao a tutti Grazie Grazie Grazie